Un re alla corte di Braglia, Udo, c'è King Paul classe 97 in prestito dal Cesena. In carriera ha 158 presenze e 36 gol. Lo scorso anno Cesena nelle prime 10 partite ha segnato 4 reti, poi si è infortunato e ha lasciato il posto a Spendi che non è più uscito. L'anno prima Olbier è esploso, 13 gol e 2 assist in 35 gare di campionato. King Paul, Udo, sembra calzare a pennello con gli schemi di Braglia perché si trova bene sia quando il pacchetto d'attacco è a 2, magari in un 3-5-2 o in un 3-4-1-2, o quando deve fare il riferimento centrale in un 3-4-3. Udo inizia nel settore giovanile della regina, poi cresce in quello della Juve. Nella stagione 2014-2015 mette insieme 32 presenze e 12 gol con la primavera di Fabio Grosso. A gennaio 2016 passa a Lanciano in serie B, poi scende in C al Ponte d'Era, 17 presenze e un gol, poi alla Fermana che lo gira in serie D al Fano. A Via Reggio sempre in serie D nella stagione 2018-2019 gioca 26 gare segnando 8 gol. L'anno successivo in serie C indossa la maglia della Pianese, 26 partite e 6 gol per lui. Poi i due anni successivi a Dolbia con 69 gare giocate e 18 reti. Per completare la rosa in casa rosso-blu adesso servono un secondo portiere, due difensori, tre centrocampisti e due attaccanti. Nella giornata di ieri ha rimbalzato il nome di Kevin Candelori nella scorsa stagione alla Fidelissandria. Mercati d'Alzassuolo è un'opzione in attacco sfumato Cioffi, Morella è una pista. Il DS Migname ha effettuato sondaggi anche per gli attaccanti Busappo, 2002 del Vicenza, Silipo, 2001 del Palermo. In uscita i centrocampisti Corsinelli, Bulevardi e Toscano. In uscita i centrocampisti Corsini, Bulevardi e Toscano.